ciao ne siamo in via pietro generali ci siamo fermati due secondi per bere io alla fontanella bevuto abbiamo messo la sua ciotolina sotto il rubinetto vedete il rubinetto ciotolina per riempirla e farlo bere ma c'è un problema solo attuale che se io apro l'acqua spara fuori non va in quel cerchio naturalmente predisposto a raccoglierla perché se io l'apro così ci metto quattro anni a bere se gli faccio fare lo scatto al bottone schizza fuori e mi lavo i piedi mi ricordo che una volta tutte le fontanelle che avevano rubinetti anche simili così erano fatte in modo da essere funzionali non solo esteticamente piacevoli ciao ne